Sono 17 le batterie previste nella prima. Hanno preso il via Giacomo Garandesso a Zora patinatore Davide Libralesso, patinatore Spinner. 18,822 per Garandesso, 19,059 per Libralesso. 7,822 per Garandesso, 19,059 per Garandesso, 19,059 per Garandesso. 7,822 per Garandesso, 19,059 per Garandesso. 7,822 per Garandesso, 19,059 per Garandesso. Terza batteria con Francesco Grisoni, Gabriele Taricco, patinatore San Mauro Torinese. 18,574 per Taricco, 18,766. 7,823 per Garandesso. 7,823 per Garandesso. E' partita la quarta batteria con Andola Ardita, Diabolosica Italia e Mattia Di Gennaro. rolle inquatinatori Bosica Martin sicuro intanto chiamiamo le Junior Femmine all'Appello per la gara di fondo Junior Femmine all'Appello, grazie 18,793 7,93 per 10 12,131 per Martita 7 Partito di Maoloni e Lazzarini resiste il 17,340 di Duccio 18,562 per Maoloni 20,101 per Lazzarini in position set 17,623 per Mallorca 19,212 per Passione 17 7 18,989 per Petrinelli 20,783 per Palli non si dice porca paletta si dice 7 18,989 per Palli cacchio paletta si dice ma si dice porca paletta porca paletta no mia cucina dice così siccome c'ha due anni 18,241 per per la Maria 19,568 568 in position set 395 395 395 set set nonna batteria con Samuele Ciarlaria Pescarla Tima e Rodolf Cortese città di Preolo Gargalo Pescarla città di l'entrata città di 18,565 per Rajal 19,287 per Cortese Dej Cattivinenze in position set set Sì Sì In position Set Partita la batteria numero 12 con Lorenzo Cirilli Lorenzo Cirilli Giacomo Bernabéi Jolly Club Almigna Terzo tempo ufficioso quello di Sargonimo anche a questi due 17 885 Cirilli 18 176 Lorenzo In position Set In position Set Tredicesima batteria con Salino e Moroni 5 3 4 3 5 5 1 3 6 5 5 6 7 In position, set. 18.569 per Casoni 18.874 per Berlini Pronti alla quindicesima In position Set 17.9479 475 Cremaschi 18.608 In position, set. 17, 479 Piergini, 18, 407 Sette Dai Uri Dai Uri Dai Uri Dai Uri Dai Uri Dai Uri 17, 870 per Marzano 18, 065 per Soriani Ni Dai Uri Dai Uri Grazie.